Musica Ben ritrovati con il notiziario delle quotazioni dell'olio extravergine d'oliva dell'11 marzo. Sin dall'inizio della settimana i mercati italiani dell'olio extravergine d'oliva hanno avuto stabilità di quotazioni e contrattazioni sotto tono. Da martedì 8 marzo è iniziato un aumento dei prezzi, dello stesso olio, un mercato pertanto alterato dalla crisi economica e sociale in atto per quanto sta accadendo in Europa con la guerra Russia-Ucraina. Tale aspetto non ha coinvolto solo l'olio extravergine d'oliva ma ha spinto a un notevole rialzo anche altre merceologie d'olio come l'olio di sansa d'oliva. In questo momento è difficile ipotizzare una realtà di valore che stimiamo comunque in questi grafici. Da circa 4 settimane possiamo notare una stabilità dei prezzi, solo da 3 giorni un balzo notevole. Mentre per quanto riguarda l'olio di sansa d'oliva questi sono i valori. A gennaio 1,90 euro, a febbraio 1,98 euro, fino ad arrivare ai primissimi di marzo 2,05 euro, e il balzo a 3,10 euro negli ultimi tre giorni. Per quanto riguarda i mercati esteri, l'impulso al rialzo si sta attuando anche nei mercati dell'olio d'oliva sia dell'Unione Europea sia dei paesi extra-UE. Grazie per la cortesa attenzione e un arrivederci alla prossima settimana. Campania finanziata con il contributo della Unione Europea e dell'Italia.